Ma io non sono scettico sulla campagna vaccinale, io sono scettico sul fatto che lo Stato deve essere chiaro e trasparente con i cittadini e quindi quando si dice che la campagna vaccinale è facoltativa e poi di fatto è una costrizione questo produce un livello di conflitto tra lo Stato e una parte dei cittadini che è quello che poi abbiamo visto manifestarsi in tante piazze d'Italia, a volte anche con violenza è sempre ovviamente ingiustificabile, quindi ho fatto questa riflessione e ho proposto costruttivamente al Governo di cambiare atteggiamento rispetto ad alcuni passaggi, sarebbe stato e continuo a ritenerlo ad esempio molto utile se accompagnare questa campagna di vaccinazione con l'inserimento del diritto all'indennizzo che fa sentire i cittadini protetti dallo Stato, mentre l'impressione che molti hanno di avere uno Stato che ti obbliga di fatto a vaccinarti perché se non ti vaccini non vivi più, non prendi neanche lo stipendio rischi persino di non lavorare e di non mangiare, però la responsabilità della vaccinazione te la devi assumere devi firmare le liberatorie, lo Stato non garantisce l'indennizzo per ottenerlo nel caso devi avviare una causa risarcitoria lunga e complessa, ecco questo, non credo che sia un atteggiamento utile utile per incentivare i cittadini a farsi il vaccino, sono convinto che se ci fosse stato l'indennizzo sarebbero stati molti di più quelli che sarebbero corsi a vaccinarsi e magari lo avrebbero fatto sin da prima e senza bisogno di ulteriori restrizioni. Sui bambini c'è una sensibilità ancora più marcata e quindi anche persone che non hanno nessun dubbio sul vaccinarsi e che hanno fatto due o tre vaccini hanno molta resistenza a portarci i bambini, per questo io mi appello molto alle autorità mediche ai pediatri in particolare che sono quelli che poi i genitori consultano prima di tutti quindi se da parte dei pediatri ci sarà la capacità di comunicare, di spiegare, di convincere, di far capire quale sia il vantaggio reale della vaccinazione anche dei bambini io credo che molti genitori porteranno tranquillamente i loro bambini a vaccinarsi.